Allora che dire, il Sassuolo retrocesso in Serie B, è nulla contro i tifosi, pochi tifosi che ti fanno la squadra, che sono persone magari anche di cuore, però questa società veramente in Serie A va abbastanza stufato, con tutto il rispetto. Una squadra che in Serie A stava abbastanza rubando il posto ad altre squadre di Serie A, cioè a squadre più di tradizione, tipo il Parma, che è in Serie B per tre anni, la stessa Sampdoria che è ancora in Serie B, lo saranno anche per l'anno prossimo, però anche altre piazze che non sognate a tempo, tipo il Bari, sarebbero state meglio in Serie A del Sassuolo. Detto ciò, la meritocrazia è una cosa importante, è una cosa importante, quindi è giusto che il Sassuolo sia stato in Serie A per undici anni, è giusto così, anche se è una piazza abbastanza triste, è giusto così, il Sassuolo, undici anni di Serie A, meritatissimi. Se piazze più grosse non riescono a starci undici anni in Serie A, che dire, niente, è giusto così. Per altra cosa, il Sassuolo non è che ce l'ho, perché è piccola come piazza o è triste, è vuota, perché pochi tifosi, perché lo stadio è sempre vuoto, cioè ci sono più tifosi in trasferta che i tifosi di casa. Il problema del Sassuolo è che la squadra, il problema è carnevali, cioè veramente stava facendo porcherie, secondo me carnevali, cioè non se ne poteva più di carnevali, che si vende tutto, anche l'anima, alle big che ci cascano. Cioè, Berardi fissava prezzi di 40 milioni, che comunque potrebbe anche valere Berardi, però altri giocatori, boh, non lo so, che ha dato, Fratesi, che valeva, si è fatto pagare, ha pagato 10 milioni in mulattieri per essere accondiscendente con Marotta, cioè secondo me, come fa pagare 10 milioni in mulattieri? che è un giocatore che è poco il campo, cioè ogni tanto gioca, ma non è tutto giocatore che gioca tutte le partite, cioè poi in passato che va a Torra Spadori, al Napoli, che è un buon giocatore, ma una riserva a Napoli, poi altri giocatori, ha venduto in passato Politano, Politano che il suo vale, però, un po' l'ha preso troppo altro, non mi ricordo neanche quanti milioni l'aveva venduto, la Spadori è sicuramente una quarantina di milioni, non solo i prezzi, dovrei controllare, una quarantina di milioni, per un giocatore che comunque fa la riserva a Napoli, poi ha venduto Scamacca a 35 milioni tipo al West Ham, al West Ham non ha fatto niente, l'Atalanta sta facendo bene, ma al West Ham non ha fatto niente, cioè non si è ambientato col calcio inglese, poi ha venduto Traoré, Traoré, al Bournemouth, e poi ha preso il Napoli, ma c'è quello giocatore a 32, 35 milioni, va io boh, cioè non so, Carnevale ha fatto il suo interesse, l'ha fatto anche bene, però, però veramente un personaggio veramente triste, secondo me per il calcio italiano, cioè, io non mi rientro di finanza, di, non so, nemmeno un esperto di calcio a mercato, non so, non sono un esperto, sono un poveraccio che dice la sua, poi non so ne poteva più, delle sue, delle sue, come si dice, Manfrini con alcune società, cioè, poi say solo che, cioè, fa il double sull'Inter, vince le due parti su due sull'Inter, ma che cazzo, ma si può vedere c'è una squadra che fa 104 punti probabilmente avrebbe fatto 104 punti può essere invincible cioè invincibile come l'Arsenal che ne ha perso 0 di partita facendo 104 punti il record di tutti i tempi in Serie A e che cazzo fai due punti il record per fare per regalare 6 punti al Sassuolo che sono inutili perché tanto il Sassuolo è lo stesso giusto perché ti ha venduto frattesi a non lo so a prezzo a parte che era giusto il prezzo perché ti ha pagato 10 milioni murati e diciamo nell'affare con frattesi ma che cazzo ma si può vedere una cosa del genere io non lo so l'Inter faceva 100 e lo dico sono un hater dell'Inter faceva 104 punti faceva l'Inter a me non mi piaceva questa cosa qua perché sarebbe stato una delle scuole più di più fare tutti quei punti però a parte che anche 98 sono tantissimi però se lì fa 98 dovrebbe fare ma non lo so vediamo queste ultime partite non lo so io non lo so non lo so boh io non lo so sono un po' scandalizzato cioè i tifosi mi dispiace per il Sassuolo solo per Ballardini e per una o due persone che conosco di persona che ti fanno Sassuolo perché non lo so ti fanno Sassuolo mi conosco di persona comunque uno vale due tifosi del Sassuolo e detto ciò per queste due o tre persone mi dispiace Ballardini che è un allenatore serio un allenatore tifoso del Milan venendo dalla primavera del Milan allenava e poi avendo allenato i Cagliari in Serie A avendolo salvato miracolosamente cioè quindi Ballardini mi sta simpatico però tutto il resto veramente cioè sono contento che il Sassuolo retrocedere non dico neanche ti auguro di tornare in Serie A perché non 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 lo so non lo so se glielo auguro sinceramente buona squadra finché c'era Squinzi faceva la sua bella figura in Serie A finché c'era Squinzi del Zerbi in panchina faceva la sua bella figura in Serie A poi è morto Squinzi cioè la squadra è rimasto del Zerbi in panchina ma è morto Squinzi fatto un anno buono poi il resto c'è sempre salvezza salvezza più o meno tranquilla ma basta cioè poi non ha fatto niente cioè con Squinzi arrivava in Europa anche il Sassuolo cioè poi non lo so Squinzi non lo so per lui mi dispiace per lui non conosco la famiglia lui conosceva solo di nome non di persona ovviamente però non so che dire ma non sono esperto di finanza quindi non lo so quindi va non lo so